Noi aspettiamo un incontro che c'è martedì, cioè domani a livello nazionale tra Berlusconi e Salvini, dove verrà messo sul piatto il fluo di Venezia Giulia. Dunque domani si potrebbe conoscere il candidato del centrodestra alla presidenza della regione, una scelta lunga, complicata, ma che sostanzialmente tale non sembrava qualche mese fa. Competeva negli accordi nazionali a Forza Italia esprimere il proprio candidato e abbiamo scelto secondo me il candidato più competente in assoluto, un uomo che ha lunga esperienza sia come politico sia come dirigente, era direttore di Autovie Venete, vorrei ricordare. Quindi abbiamo scelto il medico migliore, forse non il più simpatico come qualcuno ci imputa, ma sicuramente il medico migliore. Par di capire che Forza Italia sia intenzionata a non mollare su Riccardi o su un altro suo esponente, però questo temporeggiare forse eccessivo dovrà scontrarsi con una doppia necessità di far presto, per ragioni prettamente politiche, c'è una campagna elettorale da allestire, ma anche burocratiche. Ricordiamo che dobbiamo raccogliere da mille a mille e cinquecento firme per ogni collegio in cui ci presentiamo. Oggi c'è un po' di diffidenza, però siamo convinti di riuscire a fare una bella partita, una bella partita rimettendo in campo dei cavalli che corrono forte. Piero Camberi invita tutti ad affrontare il futuro immediato, leggi la scelta del candidato quasi dimenticando i risultati delle elezioni politiche. Adesso pensiamo a casa nostra, il segnale a livello nazionale è stato lanciato, grandi voti per i Cinque Stelle, grandi voti per la Lega Nord, dopo la protesta cerchiamo di costruire insieme una proposta. La gente ci vuole vedere uniti, noi crediamo che sia corretto correre uniti. E per quel che concerne l'avversario più temibile, Camber non si sbilancia più di tanto. Si corre per vincere, quindi chiunque sia l'avversario ci confrontiamo sul piano delle proposte, credo che stiamo dimostrando di saper governare bene, governiamo Trieste, governiamo Gorizia, governiamo Pordenone, credo che questa sia la vera nostra ricchezza.